Torna la Fiera Mercato Nazionale del Radio Amatore di Pescara con la sua 55esima edizione. Il tradizionale appuntamento riservato operatori del settore agli appassionati e che da sempre attrae l'interesse dei detti lavori di diverse regioni si terrà sabato e domenica prossimi 27 e 28 novembre presso il Pescara Fiere di Via Tirino. La manifestazione è stata presentata questa mattina presso la Sala Giunta del Comune di Pescara. Quest'anno abbiamo rimesso in programma la nostra manifestazione senza trascurare nessun aspetto quindi sono state invitate le scolaresche, abbiamo delle rappresentanze che vengono da diverse parti d'Italia ovviamente fatti salve le misure di sicurezza sanitaria. Al di là dell'aspetto commerciale c'è un aspetto che per noi è molto più importante e cioè quello di creare nuovi adepti, di portare nuovi prodotti, di condividere nuove soluzioni di comunicazione tant'è vero che abbiamo delle apparecchiature che verranno presentate quest'anno di nuova tecnologia digitale che permettono di superare le difficoltà di comunicazione che spesso per motivi fisici insomma vengono prospettate dall'attività radioamatoriale non solo, anche delle attività di comunicazione che svolgono i vari enti. Il sindaco di Pescara Carlo Masci questa mattina nel corso della presentazione dell'evento ha sottolineato l'importante ruolo avuto proprio dal palafiere di Via Tirino nel corso dell'emergenza sanitaria. Poi c'è il palafiere che abbiamo utilizzato per le vaccinazioni, ha avuto un successo incredibile è stato conosciuto a tutti e oggi viene utilizzato a Pescara per organizzare fiere che portano gente da tutte le parti d'Italia quindi un messaggio positivo anche di ripartenza delle attività perché per troppo tempo siamo stati senza iniziative ci siamo preoccupati e continuiamo a preoccuparci dei tamponi delle vaccinazioni ma nello stesso tempo la società, la vita ripartono per prospettive più nuove, più tranquille sapendo che con le vaccinazioni si ottengono risultati legati al fatto che questa malattia aggressiva fa meno danni rispetto a quelli che ha fatto negli anni passati.